Sì, 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 sì bella a tutti ragazzi qui è master game come ho scritto nella pagina di facebook prima di fare questo video per spiegarvi questo cosa è successo con il video di getmary che devo fare uscire volevo far vedere i pericotti dalla mister x mod di tutti i mostri che abbiamo ucciso in realtà vi voglio spiegare stando un attimo fermo perchè se no mi disconcentro con l'Smg nelle mani perchè non ho fatto uscire il video allora sono stato un'ora e mezzo per fare due livelli e un altro quarto d'ora a fare la prima parte di un livello che neanche alla bandierina sono arrivato cioè non mi dava la registrazione l'avevo messo quando registro mi dava automaticamente nella sezione video registrati che avevo fatto una cartella propria ma non mi ha dato non mi dava mi dava solo quando iniziavo a dire qualcosa e non mi dava più mi dava che riprendevo lo schermo proprio ragazzi è stato un drama se ancora sono nervoso di ora perciò ho fatto questo video per spiegarvi e poi magari per per i bei ricordi della mister x va è un brevissimo video che ho voluto farvi non so anche per spiegarvi e poi va a un po' di tempo che non facevo un video ragazzi tutti abbiamo degli impegni poi volevo guidare anche questa macchina che è questo project che vola i fer veloci che vola non l'ho guidato volevo provare a guidare ora davanti a voi comunque ragazzi io catmario come ho detto nel video che si è cancellato e per il momento non lo voglio continuare perchè i dati in quel gioco maledetto non si che cavolo? eh i dati in quel gioco non si possono salvare quindi dopo le bestemmie ho perso un'ora e mezzo nella mia vita senza fare niente va in due parole eh beh proviamo a guidare questo veicolo quindi per il momento la serie non la continuo eh domenica uscirà il video su Jeff The Killer poi ragazzi non so cosa fare che videogiochi fare penso che farò qualche cosa su GTA V perchè ho scoperto altre cose aliene che c'erano farò un video lunedì vi lo vedrete ma ci saranno ci saranno molti progetti poi vi volevo spiegare perchè volevo spiegarvi perchè anche volevo dirvi spiegare ragazzi non mi date conto sono troppo aggiatto che non riesco a dire neanche le cose volevo ringraziarvi per il canale che sta andando bene perchè siamo arrivati ma non l'ho visto ancora ieri eravamo arrivati a 850 e qualcosa non lo ricordo di preciso comunque mi sono arrivato 50 visualizzazioni del canale tutti in un giorno quindi ragazzi grazie poco a poco aumentiamo spero che aumentiamo di più e possiamo crescere insieme siamo andati poi senza volerlo anche dal nemesis vabbè ragazzi buttiamoci aspettato buttiamoci tanto super cj che resiste potremmo fare anche che è quella cosa mi mancava correre con cj cj mi sei mancato fare il trucco sempre perchè poi te ne vorrei pentire proviamo il super salto voglio provare se arrivo no ragazzi questo video l'ho fatto perfino anche senza tagli non ho fatto nessun taglio perchè verrà colto ormai sta proprio per finire perchè ho voluto fare questo di anche per fare i bei ricordi della mister x va insomma vabbè ragazzi lui è cj e non muore mai ma non muore mai perchè ci sono i trucchi vabbè va spariamo a due macchine e poi conclude il video così va l'ho voluto fare aspettate perchè mi incavolo sempre quando riesco a scrivere un oh trucco munizioni infinite attivate grazie omino delle gastro per la tua osservazione anche se non ce n'hai a di bifond va bene ragazzi io la concludo qui ci fa che l'omino delle gastro mi cominci a rompere e se il video vi è piaciuto io vi invito a lasciare un mi piace anche per le anche per le mie incavolature che non ho potuto registrare e ci vediamo domenica sabato non usciranno video ragazzi dopo questo incavolatore mi devo riposare e anche dopo la scuola domenica uscirà la seconda volta del video su Jeff De Chilo ok ragazzi ciao ciao